eh ma adesso si rompe da qua marco perché passiamo da qua dopo dietro e si no porta via prima volta che arriva portati tutto troviamo tutta la dove siamo usciti in strada no è andato lì avanti adesso si è fermato lì avanti taglia però eh è piccolina ma funzionano queste qua certo devi avere queste cose cioè se c'è lì il troncone non lo tagli più vabbè se una barra non ci arriva cioè però per quello che dobbiamo fare noi tante volte si la chiamai manca un pezzettino suo attuale che è dove non si vede sicuro l'ho affilata con il trapano dei denti per quello che taglia guarda Luca riesce a stare un pochino bravo ora fino all'ultimo tiene sarà attaccato a un millimetro ma porca miseria prova a vedere e che cavolo ma non riesci a dire di là te la chiude dentro dopo va giù con la punta così tiriamo insieme se l'alziamo si va per spaccare girala di là vieni qua guardalo lui come fa guarda guarda cosa c'era c'era sotto l'altro ma alta buttiamolo dietro esatto che la blocca che è meglio no 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 lascialo lì che ferma tutto qua questo bisogna tirar via e questi qua sono tagli anche quello non andare giù sul sasso vieni qua bravo anche questo questo qua che tiene Ale e questo che rugga questo dammi un attimo un secondo se è questo oh c'ho spampi aspetta che tagliamo questo è questo che tiene guarda soffettente occhio eh attende tagliali via qui attende quando ci sei se tende e dopo lo togliamo rosso la corrente la corrente le ributta giù esatto respira che è tutta roba buona è tutta roba naturale uno che non vuole 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 che sta presendo la straduzza bravo oh e che cazzo e che cazzo e che cazzo figaro ah ecco oh aspetta adesso si eh no ma questo se no non viene via scorta tanto ormai perché viene via anche questo però questa non te la porta via se c'è attaccato sto coso te lo tira qua in mezzo e dopo lì non va su più dai Marco tira il via questo qua se ormai l'ho tagliato tutto dai cosa c'è attaccato ancora questo devi alzare io non riesco vedi io non riesco manca questo dove è attaccato ancora tiralo verso di te che io non riesco Marco questo se capiamo no no ma questo vai che è già finito prova